ciao ragazzi è tempo di una nuova festa gbr perché ce n'è una che dobbiamo assolutamente fare vero micetto certo insettina benvenuti all'alleni festa che sarà anche un po micetta vero certo e dicono che ci metterà lo zabbino anche papione e chi lo dice ai due invitati nessuno sarà una sorpresa brava le abbiamo mandato in missione dai nomi abbiamo preparato tutto come due veri supereroi e quando suonano al campanello li faremo entrare sono arrivate sono arrivati vai vai milady apri benvenuti alla lady festa ragazzi questi sono i lady brezzel i brezzel che tanto adorate trasformate in versione coccinellosa e non solo loro sono trasformati ma loro trasformeranno voi è vero dovete assolutamente assaggiarli ragazzi solo dei brezzel svegliamo il trucco ragazzi che abbiamo ricoperti di glassa rossa molto bravo poi abbiamo messo due meringhette per gli occhietti e poi col pennarello alimentare buono sì vedo la traccia del lady brezzel anche io devo trasformarli e col pennarello alimentare abbiamo fatto i punti ma no lady bug mangi lady brezzel sarai super forte e io che sono micetto posso assaggiare lady brezzel ovvio allora io continuo ti spunta qualche puntino diventi mister bug ah è vero ho ragione ti faccio diventare lady nuore è una promessa è molto buono cosa dici nichi? bene bene ricetta pollicciosa ragazzi io vi mando un brezzettino un brezzettino anche io un brezzellino io anche un brezzellone ma forza a brezzettare guardate sul di Paolo che vi state per trasformare forza forza plug trasformalo l'ho preso? l'ho preso? no no l'ho preso? bene ragazzi andate con l'apertura il giro di scatola il giro di scatola bravissimi ma stai ancora brezzellando? va bene diciamo che avrai un cataclisma epico ragazzi non è solo una gondellina è un vero e proprio lady vestito una maglietta di chamois ragazzi è quello ufficiale con il cataclisma eh forza oscuriamo e cambiamoci luce wow ragazzi ma è bellissimo e chi c'è dietro di tele di bug? è il gatto noir il gatto noir è già pronto all'azione perfetto grande lucky charm e mi sa che ci serviranno è vero perché ragazzi come in tutte le nostre feste c'è la ruota dell'attività la miraculous wheel che ci dice? sceglierà? croniraculous siete pronti ad un'avventura ad avere i supereroi? sì come il cronobomb che abbiamo visto qui sul canale GBR un po' di tempo fa c'è un percorso che ci porta a disinnescare la bomba in questo caso delle mascherine il mitico yo-yo sì sarete anche mascherati ragazzi bisogna arrivare alla bomba appunto se toccate il filo per sbaglio dovete riuscire a arrivare in fondo raccogliendo le carte lungo il percorso entro i 30 secondi altrimenti perdete arrivati alla fine del percorso dovete schiacciare il bottone finish per liberare la kuma e fare ciao ciao farfallina inseriamo la farfallina vai col conto alla rovescia 10 secondi per tornare al posto si può giocare anche da soli eccoci a noi ragazzi 4 mascherato 2 1 via faccio notare che è anche dotato di coda ogni volta che viene toccato il filo vai recupera le carte i secondi diminuiscono di 5 c'è anche il tifo già arrivato grande liberata la kuma che è elastica e quindi voi la rotolate la inserite dentro per vedere nello sportellino quando arrivate schiacciate ciao ciao farfallina via si parte ecco ragazzi la musichetta i 30 secondi bisogna recuperare le carte il maestro c'è tic attenzione che c'è la kichan proprio nella doccia dai mati vai vai veloce quanto manca Ale 20 secondi forza forza e Ale scusa le debug scusa non sono io vai mati vai vai recupera le carte è stata catturata vai che ce la fai premi premi forza forza mati premi il tasto grosso si liberata la farfallina ragazzi la faccina dell'eddy brezel di cioccolata è meravigliosa guarda le energie che dà chanoire ragazzi chi vuole un po' d'energia di succo bag io voglio io voglio vai lady mati anche lui anche chanoire ovviamente ecco basta anche se abbiamo solamente bicchieri insettini sapete perché lady bug perché non hanno fatto quelli gattini fate anche bicchieri gattini vai mati tocca vai tocca lucky charm e ruota sceglierai nessuno lo sa ciao ciao farfallina ciao ciao farfallina la riconoscete questa akuma bravissimi allora cataclisma vai char noir lucky charm e ce l'hai ovvio che ce l'ho ecco qua è lui il mitico yo-yo di lady ah il nostro gattino adesso vi faccio vedere come si catturano le akume questa è la kuma ragazzi e adesso lady bug con il suo yo-yo eccolo la kuma e diventa bianco ciao farfallina ciao farfallina ci riuscirete anche voi ragazzi però per questa occasione straordinaria anche chanouaretto avrà e non solo lady baguetta avrà la kicharm e vai la kicharm di coppia uno e qua ma ovviamente non ci sarà solo una kuma da catturare e figurati se papillon ne manda solo una è pieno di akume vai brava ha catturato ottimo chanouaretto giustamente giustamente ha visto gli episodi molto bravo chanouaretto consegnamili a kuma e catturato consegnale a lady bug voi continuate a yo-yo a yo-yo noi siamo gattini sai com'è insettina ci piace giocare con il gomito vai mati arrotola arrotola sai com'è essere insettini essere insettini noi nel frattempo mentre nicchia arrotola vi sveliamo il trucco di questi yo-yo ci abbiamo messo del velcro li abbiamo presi rossi li abbiamo dipinti con il pennarello e anche dai quasi sono pensate col velcro pronte per essere catturate ma non posso farlo io lo deve fare lady bug cattura di coppia come è andata lady bug una presa grande brava lady vai mati lady grande gattino viva i gattini bravi bravi vedi vedi che i lati qua hanno ingranato guarda 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 ho preso doppia cattura kuma di coppia occhio no c'è lady ma ti ha scoperto il trucco è lady trucco bravi sappiamo sappiamo senti insettina ma se ci riesco io cenetta sui tetti di parigi ciao si intanto non ci riesci ma si che ce la faccio guarda c'è il mareto che fate voi in posa domani sicuramente capirà la cura ah sicuro ma non è vero guarda attenzione oh no l'ho mancato si l'ho presa bravo oh cosa è successo siete proprio gatti cataclisma no sul mio tablet si rompe si rompe la miraculous wheel che potete fare anche voi con la gb non scoprire l'identità segreta come sapete ragazzi è importantissimo ci sono le mucche che noi supereroi manteniamo la nostra identità segreta vero ma ladybug e voi dovete aiutarci a mantenerla vi presento ragazzi me in versione doll anzi fashion doll ma che bello che sei c'è qua grazie ladybug dai ragazzi questa volta è vero ci facciamo la cenetta sui tetti di parigi guardate che c'è anche il bastone di chanoir certo che si ma ha girato ok mi raccomando si è lei è lei marinette non deve in alcun modo vedere chanoir e quindi deve riuscire a trasformarsi in ladybug prima che lei lo veda lui lo veda lui la veda è vero perché chanoir sarà sulla base rotante insettina mi sto girando verso di te forza ragazzi togli tutto togli tutto avete detto tiki trasformami tiki trasformami ma siete velocissimi anche perché c'è tiki in versione pucciosissima avete lasciato la canottiera no no la togliamo scherzavamo forza ragazzi guardate che è già quasi a mezzo giro è chanoir veloce posso confermarlo sento il suo campanello lo sentite anche voi ma ti si dove hai vestito ma ti ma ti ma ti ma ti è già pronta con lucky charm vesti i pantaloni vini forza 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 ragazzi ci siamo quasi mi sta per guardare adesso meno che meno è tutta nuda ma come nascondetela così nel frattempo fai l'altro giro scelmone si esatto faccio insettina insettina dove sei si non è mai puntuale è incredibile una l'altra scarpine dai insettina vai eccoci è che la tuta è super avere tranquilli tranquilli ci hanno rastrando con calma avete messo anche la mascherina si fatemi vedere la trasformazione è veramente completa ci siamo ma siete uguali ragazze episodio inedito vi danno un bacino incredibile insettina allora questa cenetta sui tatti di parigi ma no c'è un'urgenza ciao che urgenza c'è di bar bisogna girare la scusa della prossima avventura un classico vai c'è papa per quami ragazzi i nostri quami sono stanchi nelle loro casette tranquilli ho un'idea per farli facciamoli ridere un po' ciao cosa ciao marinette ciao marinette comunque ragazzi dicevamo come sapete se seguite la serie di miracolos plug ha bisogno del camembert si il suo formaggio puzzone per ricaricarsi guarda e marinette adora e marinette ticchia adora i macar oh i macarons siete fortunati perché oggi piove camembert ok piove avete visto voi dovete essere così bravi vi lascio le scatoline dovete riuscire a raccogliere macaron e camembert quando cadono siete pronti si via inizia la pioggia incredibile il camembert al volo e poi il macaron e poi il camembert la pioggia continua l'hai preso no non devi prendere il macaron devi prendere il camembert ladybug c'è stata un po' di confusione quasi quasi preso e adesso cosa diciamo plug ma c'è tantissimo di camembert ladybug è finito il camembert è finito è finito bene adesso vediamo se per i nostri kwami c'è abbastanza a meno un pezzo c'è modi c'è qualcosa anche per me certo tiki oh grazie ha preparato un bassoio la guarda c'è qualcosa anche per te grazie un mega pezzo il camembert è plug c'è altro camembert qua dov'è plug eccomi vai tuffatelo nel camembert che dite ragazzi se anche noi ci facciamo un po' di ricarica vi presento i cookie noir ti prendo i biscotti di no sono verdi come gli occhi di januar e neri come la mia fantastica tutina ragazzi l'interno oh vieni vieni gattino brava porta che il gattino devi sapere mati che l'interno è fatto con la panna si ho detto panna colorata di verde per l'occasione januar ne hai già mangiato un altro uno è per me morbidezza e per l'inzettina cosa hai fatto sta applicando il catachisma a tutto è un bravo allievo bravissimo forza ragazzi non guardate però qua non guardate ho visto un me stesso non vestito la cosa non mi è piaciuta per niente guardate ok non mostriamo questa parte qua benissimo e direi di andare alla prossima attività cosa dite è un'ottima idea forza biscottino il cookie noir è buono mate è pannoso e la ruota sceglierà e nessuno lo sa in realtà manca una sola cosa occhio lo sparabolle è un cattivo lo sparabolle esatto per l'occasione ragazzi potrete usare il bastone estensibile di chanoar dotato di due punte e quando arriverà lo buono matibug quando arriverà lo sparabolle dovete colpire le bolle ce l'ho già arrivato occhio quando arriva la bolla devi scoppiarla arriva forza ricordati che puoi estendere anche il bastone arriva mamma bolla niente da fare seduto micetto seduto si grande si avete visto che ha preso il ritmo io intanto di qua ragazzi sbiccio lo sparabolle tu vuoi provare matibug? no sai come ama marinette si la panna si ho capito arriva una scarica di bolle come una scarica di bolle devi stare seduto no sono tantissime un'espasione si non so come mi è riuscito no bene fatto anche oggi ladybug e chanoar hanno sconfitto il male è il momento di fattare corriandoli e se questo video vi è piaciuto mettete un pollicione e non fate le feste su Giacomo Bear assolutamente no iscrivetevi ragazzi al canale youtube GDR per non perdere i prossimi video ciao 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 ciao